signore 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 sta sognando mi spiace ma non saprà mai come andrà a finire artù sei tu volevo detto che sarebbe tornato vieni da lontano da dove è qui sotto ma certo che erano tutti matti stietruschi se credevano pure che nel volo degli uccelli si vuole leggere il destino chiudete sceglie le 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 Grazie a tutti.